Il portatore del Voto No, siamo ancora all'unzione del pubblico Allora consigliere di un'esemprenza Non mi intervista, non mi intervista Non consigliere di un'esemprenza Non mi intervista Ma è una normalità Se mi chiesto una cosa, la devi mettere la burra Se lo chiamiamo, non mi intervista Allora, chiede all'unzione del pubblico Lei chiede il pubblico Lei chiede il pubblico Non mi intervista Non mi intervista Presidente Allora, lei, la figlia La collega di Bianchi ha fatto una proposta E lei è tenuto La collega di Bianchi ha fatto una proposta La proposta La proposta è la mia con il nostro carico Se lei è un partena, non è un problema Bianchi, ricorda la proposta Prego Allora, il consigliere di Bianchi Si ricorda la presidenza del consigliere di Bianchi Se lei ha fatto la proposta Per contendere l'articolo della sua proposta Presidente Bianchi Allora, l'intervento precedente Io ho annunciato che per tutta una serie di votini E anche e soprattutto perché mancava il peff Di rinviare il capo Di rinviare il capo Quindi questo lo mettiamo aiuti Se è consentito Allora, l'intervento Allora, l'intervento Allora, c'è una proposta Della consigliere di Bianchi Il capo adottiene il gioco Un altro polimento Con l'approvazione Allora, l'intervento Allora, la proposta Non è la proposta Allora, la proposta La proposta Non è la proposta Non ha avuto Allora, le proposta Allora, la proposta Non ha avuto Secondo parte È una completa Il romano Quindi quello che è seinen Grazie a tutti.